si adesso sta facendo il film ecco qua questi qua sono i cosi i galleggianti guarda che dimensioni che hanno questi qua sono i galleggianti e poi questo qua invece è l'ancora è l'ancora no? questa è l'ancora qui ci va la catena intanto a questa qua ci va la catena che poi dopo viene agganciata a questo perno qua bene ecco questa qua tutta l'inquadratura adesso ci mettiamo vicino vicino uno per vedere le dimensioni ti metti lì vicino che così facciamo vedere la dimensione che c'è l'altezza che ha si si così perfetto bravissimo ecco questa è la dimensione dell'impianto bene